Quale exchange utilizzare adesso sul mercato delle criptovalute dopo il crack di FTX? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un video di recap per rispondere a questa domanda, ragazzi, perché mi avete fatto questa domanda in tantissimi e io qui vado subito già a prendere quelli che sono tutti gli exchange che sono attualmente ancora operativi, no, praticamente tutti scherzi a parte, e andiamo a vedere un po' quale exchange si può utilizzare al posto di FTX perché FTX, diciamo, saltato un po' con il crash, ha creato anche un buco nei cripto traders, cioè in quelli che utilizzavano soprattutto non il trading spot ma il trading dei derivati, il trading sui futures, ragazzi. Ci sono altre realtà che si possono utilizzare? Assolutamente sì, la piattaforma non è la stessa, ci sono delle differenze notevoli, per esempio da alcuni punti di vista, ma comunque alcune alternative che vanno viste, anche perché per chi come me, anche come voi, se siete qui e state guardando questo video, è un trader delle cripto, necessitiamo di avere una piattaforma operativa con il top della velocità, i scambi, la liquidità, la tecnologia e l'app da mobile, eccetera, insomma, quelle che sono le futures più importanti per andare a fare appunto il nostro trading. Quindi ci sposteremo intanto su Commerket Cap, io ho già definito un po' quelle che sono i miei exchange attualmente preferiti, tra virgolette vi spiegherò però contro in maniera veloce, però non andremo a fare un tutorial dell'exchange che non c'entra assolutamente niente, ma vi farò ragionare su una serie di fattori che secondo me sono molto importanti proprio per i trader delle criptovalute e un po' io testo tantissimi exchange, ma la variabile per esempio principale che vado sempre a controllare ragazzi è la liquidità. Allora andiamo immediatamente a guardare quello che è CoinMarketCap e sulla tab quello che vedete qui proprio exchange ragazzi, lo CoinMarketCap intanto si presenta così, andate sul tab exchange e a noi quello che interessa ragazzi non è tanto da trader l'exchange spot perché nell'exchange spot ragazzi il trading si può fare sì, però fino a un certo punto perché alcune coste non sono possibili, per esempio la leva è molto bassa se esiste il margin trading, ma in alcuni exchange non esiste neanche il margin trading e ci sono delle problematiche nell'inserimento di stop e take profit, degli ordini condizionati da trading perché semplicemente lo spot prevede che voi abbiate già la cripto in portafoglio prima di poterla vendere, quindi per alcune strategie un po' più complesse, un po' più dai trader, necessitiamo di avere anche i futures. I futures sono dei derivati ragazzi, ora, i derivati sono utilizzabili solo e esclusivamente per il trading perché detenere derivati, cioè detenere un futures su Bitcoin non ha molto senso in quanto non è Bitcoin vero, è appunto un derivato e questo la dice lunga ragazzi, quindi non dovete tenere in holding per esempio un derivato, ma in quel caso detenete, se volete fare l'holding, detenete esclusivamente quello che è lo spot, quindi che è il vero Bitcoin per esempio. Ricordatevi che comunque al di là di questi video tutto quello che diciamo deve essere sempre, diciamo, filtrato da voi per la questione legata al fatto che si rischia, come avete visto su FTX, una serie di cose che comunque valuteremo, quindi Dior come si dice, quindi fate le vostre ricerche sempre relativamente a queste cose. Allora, io opto per questo tipo di banalissima, funzionale e iper robusta strategia nella decisione degli exchange per i futures, vado a vedere la liquidità ragazzi. Allora, liquidità is the king, liquidity is the king perché è fondamentale la liquidità per una serie di fattori, quindi io mi posiziono su exchange, vado sul tab derivati e vado a vedere nei derivati gli exchange che hanno maggiore liquidità, poi faccio una serie di ragionamenti. Ovviamente ragazzi, primo di tutti Binance, che ha una liquidità importante con un trading volume più o meno H24 di 30 billion, quindi siamo su volatilità molto rilevanti. Poi abbiamo altri exchange che a dire la verità non ho ancora utilizzato, come OKX, che ha una buona liquidità sui derivati, però sostanzialmente non così dissimile da altri exchange che già utilizzavo e anche per questo che ancora non l'ho testato tutto qui ragazzi. Perché? Perché se una liquidità di un exchange ragazzi cambia di 1-0, allora è un discorso, ma se cambia di un billion in più o in meno, tutta questa differenza non c'è. Perché poi bisognerebbe anche comprendere come viene realizzata quella liquidità, ad esempio ci sono dei bot che fanno market making e quindi realizzano scambi fittizi, quindi non sono veri trader che sono dietro, insomma, ok? Quindi in realtà secondo me soltanto Binance ha un livello di liquidità enormemente superiore agli altri. Per il resto sostanzialmente gli exchange che si livellano più o meno allo stesso livello sono OKX, Bybit, e BitGet in questo caso e poi c'è anche MEX che a dire la verità l'ho aperto ma non ho avuto modo di utilizzarlo. Poi c'è BitRu, questi non li conosco bene ragazzi, quindi poi la verità è che avere 13.000 exchange non è che serva più di tanto, quindi mi sono focalizzato un po' su questi qui. Allora, oggi vi dico la mia esperienza su Bybit, BitGet e anche un altro tipo di exchange che riprendo e vi spiego un po' di cosette che è PrimeXBT già ve lo anticipo e anche su Binance. Allora, Binance ragazzi da utilizzare per il trading nei futures se non siete in Italia. questa è la questione perché se Binance sui futures è stato bloccato se voi siete residenti in Italia però in realtà se non siete residenti in Italia funziona perfettamente quindi adesso vi faccio vedere la questione ed è totalmente performante. Sicuramente da alcuni punti di vista la piattaforma non è il massimo rispetto a quello di FTX per quanto riguarda velocità, scrittura di API eccetera però è sempre Binance ha una grandissima liquidità è vero che ogni tanto si è anche bloccato ragazzi però vedete come funziona la piattaforma futures di Binance perfettamente se però non avete cioè se siete fuori Italia quindi se siete residenti in Italia purtroppo non funziona e questo è stato un grande problema proprio per la questione legata agli italiani che hanno subito un po' di più la questione di FTX proprio perché non potevano utilizzare l'altro exchange che siamo stati bloccati quindi no e quindi questo è importante da andarlo a vedere anche la leva finanziaria come vedete si può modificare addirittura a livelli molto molto elevati quindi Binance assolutamente per quanto riguarda la questione dei derivati se siete fuori può essere tranquillamente utilizzato c'è un'altra variabile che bisogna andare a controllare ve la faccio vedere ed è quella delle Maker e Taker fee che sono fondamentali ma in particolar modo ragazzi la Maker fee la userete veramente poco nell'ambito del trading sui derivati perché Maker fee significa che voi mettete degli ordini limit e vi vengono eseguiti ma gli ordini limit ragazzi sono spesso utilizzati in strategie market making ma non per trader normali quindi la Maker fee sta lì è bella da guardare ma in pratica non ha alcun impatto sul vostro trading a meno che non siete dei market makers quindi quello che dovete andare a guardare è la Taker fee che nel caso di Binance è anche molto bassa io tra l'altro vi lascio i link in descrizione con lo sconto del 10% su questa Taker fee se non avete Binance non so chi non ce l'ha quindi vi lascio comunque il bonus per aprirlo ovviamente sui futures solo se siete fuori Italia perché in Italia non lo potete utilizzare c'è anche un'altra variabile che io spesso vado a prediligere per quanto riguarda questi exchange cioè la possibilità di creare dei sub account se siete dei trader pro avete un'esigenza che specifica cioè andare a diversificare quelle che sono alcune tipologie di strategie e per questo le piattaforme degli exchange devono dare la possibilità di creare dei sub account ora tutti quelli che ho scelto oggi danno questa possibilità ma alcuni hanno questa possibilità un pochettino più limitata altri no nel caso di Binance per esempio i sub account si possono tranquillamente andare a creare dovete fare una richiesta insomma poi vi attivano e potete creare dei sub account quindi andare poi ad operare con l'eventuale sub account quindi anche in questo caso può essere utilizzata questa caratteristica poi le fee sono fondamentali perché non dovete pagare tante fee e la liquidità è fondamentale perché se scambiate su un exchange con una liquidità molto alta ci sono margini di errori di eseguito si definisce così che è una parola si chiama slip page se qualcuno di voi vuole andare ad approfondire più bassa quindi lo slip page è un errore di eseguito e più basso se c'è tanta liquidità sull'exchange questo è fondamentale andiamo a guardare l'altro exchange che io sto utilizzando praticamente negli ultimi da settembre dopo FTX stavo utilizzando BitGet ragazzi perché dopo vari usi eccetera volevo anche utilizzare questo tipo di exchange i volumi sono diventati consistentemente più elevati per una serie di motivi BitGet sta facendo una grande campagna promo e di sponsorizzazione e questo consentito di avere volumi elevati attualmente ha delle peculiarità sulla piattaforma che secondo me sono molto interessanti per alcune caratteristiche tipiche dei trader che vogliono fare trading online in termini di intraday perché per esempio c'è l'opzione reverse l'opzione reverse che lo so ragazzi allora io immetto i dati premo il bottone e mi reversa la posizione quindi vendo quella che magari ho long e faccio uno short selling sì ma avere un bottone che ve lo fai in automatico e vi fa risparmiare quei secondi che nell'ambito del trading sapete benissimo essere iper rilevanti perché vi fa agire su un prezzo migliore magari in un determinato contesto quindi BitGet da un punto di vista di piattaforme sto cercando di togliere tutte le mie posizioni vediamo se se riesco ok ok perché ragazzi ci sono delle posizioni operative attive insomma eccetera a determinati strumenti che secondo me sono molto rilevanti alcuni strumenti sono molto rilevanti anche nell'ambito per esempio della del trading proprio sul grafico perché quando è aperta una posizione mi dà la possibilità di spostare il scusate ragazzi mi stavo affogando allora vi dà la possibilità di spostare quella che è l'open position direttamente sul grafico con un dito voi la spostate dall'app mobile questo lo fa e funziona da trailing stop cioè in pratica voi spostando quel livello lì in pratica gli state dicendo di chiudere la posizione quando viene tacciato quindi un livello quindi è una specie di trailing stop fatto graficamente dall'app mobile molto semplice molto facile eccetera mi piace molto anche la possibilità di inserire premendo qui per esempio quelle che sono i take profit e il stop dopo l'eseguito quindi magari anche dopo giornate eccetera poi come vi dicevo insomma qui c'è il pulsantino reversal che vi reversa totalmente per esempio una posizione la leva finanziaria è possibile anche in Italia con questa exchange molto alta addirittura fino a 125 poi dipende dalla crypto e soprattutto vi dà la possibilità anche di vedere quelle che sono i funding e quant'altro poi c'è un'altra variabile che ad oggi va considerata ragazzi cioè il fatto che abbiano pubblicato la proof of reserve Binance ha la proof of reserve Bitcat ha pubblicato la proof of reserve Bybit dovrebbe pubblicarla a breve se non erro insomma è fondamentale adesso dopo l'esperienza di FTX avere almeno questa proof of reserve poi funziona non funziona cosa dobbiamo starci attenti relativamente alla proof of reserve ne parliamo in un video dedicato ragazzi che ho in procinto di fare proprio per ragionare su questa cosa e capire dove come quando può servire anche Bybit comunque l'altro exchange che volevo farvi vedere dovrebbe avere la proof of reserve a momenti però quelli di Bitcat lo hanno fatto proprio di recente quindi da un punto di vista invece di FI la questione di Bitcat è un po' diversa ad esempio da Binance perché hanno uno 0.06 di FI quindi a livello di FI leggermente più alto di Binance è uguale a Bybit è vero che vedete c'è una differenza di Maker FI leggermente più costosa su Bitcare rispetto a Bybit però anche in questo caso ragazzi come vi dicevano 0.1 0.01 poca differenza rispetto anche al concetto che non lo userete praticamente mai questa Maker FI se non in pochissime operazioni dove anche negli ordini condizionati andate a utilizzare per esempio un ordine limit eseguito a limit e non a market quindi sono comunque pochi i casi dove andremo a vedere questa cosa l'altra exchange che volevo farvi vedere è Bybit c'è una differenza sostanziale con Bitget invece secondo me su Bybit intanto la piattaforma secondo me da un punto di vista di strumenti da trader e di ordini condizionati è migliore quella di Bitget è più evoluta diciamola così un po' più piena di roba per trader però anche un tantinello un po' più confusionaria quella di Bybit più semplice più stile Binance per intenderci ragazzi però Bybit ha una cosa molto importante la possibilità di utilizzare il subaccount tradando in piattaforma come se fossero account separati perfettamente integrato nella loro interfaccia a differenza di Bitget che non è così perché per esempio su quella di Bitget io lo sto utilizzando con l'API per i trading system però non riesco ad accedere per esempio da manuale per vederla eccetera e un po' secondo me ha bisogno ancora di maturare da quel punto di vista quindi sul lato subaccount ragazzi quindi avere subaccount per avere separate le vostre operatività magari su una fate la intraday su una fate una strategia su una fate l'API come faccio io con i bot eccetera Bybit è più avanti da un certo punto di vista insomma ragazzi poi ha anche un enorme liquidità in termini di futures quindi è un ottimo strumento assolutamente anche da utilizzare anche nel caso di Bybit come nel caso di Bitget ragazzi io vi lascio i link in descrizione se li volete provare questi tipi di exchange con i rispettivi sconti del 10% delle fee e quant'altro sulle fee non ci sono particolari differenze secondo me tra Bitget e Bybit quindi le reputo allo stesso livello poi ci sono una serie di questioni Bitget c'è il copy trading che io vi sconsiglio di utilizzare così pensando di risolvere il problema di non formarvi o meglio utilizzatelo così vi rendete conto se questa cosa può essere adatta a voi o meno anche Bybit ha le strategie di grid bot che funzionano abbastanza male ragazzi io poi sono un trader quindi è ovvio che andare a delegare a un bot banalissimo che insomma so già quello che fa un tipo di strategia lo faccio con grande difficoltà quindi non ve lo nascondo perciò da questo punto di vista insomma i servizi alternativi ecco delle piattaforme non mi piacciono Bybit molto forte anche negli eseguiti è precisa le API scritte molto bene anche Bybit ma ha per esempio da un punto di vista di execution sulle API dei rallentamenti se vengono seguiti tantissime operazioni questi dettagli che vi sto dicendo ve li posso dire perché noi abbiamo un team informatico in Academy che si occupa anche di testare le API dei single exchange per vedere la capacità reattiva anche multi account quindi non testandoli su uno ma su 10 100 account per vedere come reagiscono poi vedere come sono scritte le API so che può sembrare poco ragazzi però exchange che mirano ad avere grandi volumi di scambi mirano a fare delle cose molto importanti devono avere delle API scritte molto bene per i programmatori per i bot per gli istituzionali che sia vi assicuro che quelli di FTX erano le migliori insieme a quelli di Bitfinex che ha delle API scritte da Dio e questo è molto rilevante era molto rilevante che questo però anche in questo caso diciamo che Bitget si dipende ma non è ai livelli di FTX ovviamente e Bybit un po' meglio di Bitget dal punto di vista di API anche Binance non vi credete che abbia delle API stellari perché sono più o meno simili a quelli di Bybit vabbè detto questo non ho una preferenza estrema per questi exchange dico che secondo me averli un po' tutti è fondamentale Binance sicuramente anche in Italia poi per lo spot magari la carta e gli altri servizi per il trading e in questo momento prevedisco Bitget per quelle peculiarità della piattaforma che vi sto dicendo ho utilizzato anche per molto tempo Bybit c'è anche un altro exchange di cui vi volevo riparlare dopo tanto tempo cioè Prime XBT attenzione perché questo è un exchange che si può definire Degen perché ragazzi perché Prime è un exchange che non ha il KYC quindi se voi siete fuori dalla questione che voi si volete mantenere la vostra hyper privacy eccetera soprattutto non siete neanche in territorio italiano perché la consobo l'ha bloccato e quindi non ha accesso non potete avere accesso senza una VPN al vostro account di Prime XBT e quindi non lo potete utilizzare poi e Degen perché perché non avete il KYC e non avete e avete però la possibilità di fare iper leva investire Bitcoin comprare anche gli indici con le criptovalute cose che non è possibile sugli altri per esempio vi faccio vedere il mio vecchio account l'ho tirato fuori per fare due prove ho avuto due bottoni ragazzi con 100 dollari giusto per rivedere se era tutto ok ecco questo è il mio vecchio account che abbiamo veramente utilizzato per tanto tempo secondo me il valore aggiunto principale di Prime è la possibilità di utilizzare gli all market quindi i CFD anche sugli indici e creare delle strategie di trading intraday perché secondo me è più adatto all'intraday per la questione fee anche su Nasdaq per esempio andare a tradare per esempio io ragazzi adesso qui ho una posizione opening la chiudiamo guardate com'è facile un bottoccino quindi Prime a livello di piattaforma veramente Degen però anche estremamente semplice però qui ragazzi vedete io posso andare a tradare Nasdaq con grande tranquillità mi metto qui bam uno anonimo se troppe insomma mi fa mi va a tirar su magari uno shortone su su Nasdaq se non ho capitale ragazzi insomma è giusto per fare delle prove quindi che vedete insomma è interessante perché vi può insomma far fare operatività anche sul gold eccetera attenzione che però questo tipo di account come vi dicevo di exchange dovete utilizzarlo esclusivamente fuori dal contesto italiano perché in italia hanno bloccato la consobo oppure con una vpn quindi non è accessibile il sito non vi si apre il sito e degione perché non c'è il kxc quindi qui proof of reserve non hanno dichiarato nulla non sappiamo se la fanno o non la fanno però è rimasto in piedi per tantissimi tempi tempo anche questo dobbiamo dirlo ragazzi quindi ragione per cui se amate la iper sicurezza ovviamente non è un exchange adatto ma attenzione perché con la leva che hanno 100 magari ci mettete 200-300 dollari per cercare insomma di fare delle operazioni a leva e non inserite tutto il vostro capitale alcuni poi amano tradare senza che vuoi sì e in questo caso ovviamente PrimeXBT ragazzi la fa da padrona quindi questo è oggettivo da dire anche qui vi lascio il link in descrizione funziona solo in vpn quindi anche quello se siete fuori dall'italia funziona tutto se siete in Italia vi funziona solo ed esclusivamente i bit get e buy bit sui futures non vi funziona Prime senza vpn e Binance non vi funziona quindi io vi ho detto tutte queste cose ultima questione su Prime come l'ho detto in tantissimi video degli anni che furono va utilizzato secondo me più per una questione di trading intraday quindi la toccate fuga perché i costi di funding sono un po' elevati per esempio vedete qui il costo di funding su bitcoin 0.0 14 every 24 ore però a differenza degli altri exchange che hanno comunque il funding per esempio ragazzi vi faccio vedere quello di bit get per esempio eccolo ragazzi è qui e viene eccolo ragazzi scusatevi ho voluto prendere proprio il funding rate la tabella di bit get vedete su bitcoin viene calcolato ogni 8 ore e in questo momento per esempio è molto alto poi precedentemente era molto basso su buy bit in questo momento invece lo trovate addirittura negativo il funding rate anche su bit get a volte diventa negativo questo dipende dall'andamento di mercato quasi sempre però è 0.1 che 0.01 che è un po' caro ragazzi rispetto anche a quello di Prime però poi Prime ve lo fa applicare alla fine delle 24 ore quindi se voi chiudete l'operatività prima delle 24 ore non pagate il funding questo è il grande vantaggio di questa piattaforma perché per il trading intraday significa che voi il funding non ne avete mai cioè il prestito che vi fa l'exchange per la leva finanziaria non lo pagate mentre sugli altri exchange lo pagate su tutti e questo è fondamentale ogni 8 ore si va ad aggiornare anche l'analisi dei costi di funding che è molto complessa perché sono variabili quindi andrebbero prese tutte le analisi precedenti tutti i funding applicati e visto quale che è l'exchange che fa un funding imperiore andrebbe in effetti anche guardato questo è un altro dato fondamentale da andare a controllare va bene detto questo ragazzi vi ho spiegato un po' quali sono le alternative attualmente valide secondo me per il pubblico italiano per operare sui i future del mercato cripto alcune piattaforme vi assicuro insomma sono Degen come PrimeXBT quindi fate molta attenzione poi c'è la questione di Bybit che ha una struttura abbastanza valida ma aspettiamo la proof of reserve Bitget ha dato la proof of reserve insieme a Binance Binance se siete fuori Italia quindi proprio fuori Italia quindi residenti fuori Italia potete utilizzarlo perfettamente detto questo ragazzi spero vi sia piaciuto il video fatemi sapere anche voi quale preferite per esempio di questi exchange se li avete provati o meno e su quali vi siete trovati meglio va bene ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti